lo schedario mentale intanto che cosa è come dice il nome è una sorta di catalogo di schedario dove andiamo a collocare delle informazioni probabilmente se hai visto qualche esercizio di memoria che ti ha sorpreso dietro c'era questa tecnica lo schedario consiste nel creare una serie di schede di ganci questa tecnica è conosciuta con tanti nomi the major system oppure the peg system peg nel senso di chiodi quindi chiodi ai quali collegare delle informazioni ed è una tecnica che in realtà è molto potente perché permette di fare una cosa che è molto difficile ovvero ricordare una sequenza di parole molto velocemente può essere un elenco di informazioni un elenco di parole un insieme di concetti rappresentati attraverso delle parole chiave molte volte di fatti questo sistema è stato visto come la panacea di tutti i mali quando uno conosce questo sistema si pensa che abbia un'ottima memoria in realtà lo studio è un'altra cosa non è una memorizzazione sterile di parole chiave di un testo voglio sempre comprendere la gerarchia dei concetti da quali concetti discendono quali altri e dopo soprattutto voglio avere le informazioni chiare in testa con una visione d'insieme una visione radiale che mi permetta di creare collegamenti tra le informazioni mentre se ho una sequenza di informazioni tutto questo diventa più impegnativo perché ho informazioni di peso diverso magari su uno stesso livello perché i chiodi sono tutti uguali tra loro come si costruisce il nostro schedario mentale abbiamo diversi metodi iniziamo a vedere quello più utilizzato alla base c'è la tecnica della conversione fonetica la conversione fonetica consiste nell'abbinare ad ogni numero un suono al numero uno abbiniamo il suono al numero due il suono al numero tre il suono e se non conoscessi ancora la conversione fonetica in realtà non è questo il video questo video da per scontato che tu conosca già la conversione fonetica in caso non la conoscessi puoi andare sui link soprastanti in modo da andare ad approfondire prima quella tecnica a meno che tu non decida di utilizzare altri sistemi per creare il tuo schedario e avere quindi le nostre schede di riferimento il concetto è avere delle immagini pronte per i numeri da 1 a 100 quantomeno questo è lo schedario base qualcuno fa uno schedario addirittura più rudimentale con 20 ganci adesso vedremo come fare con la conversione fonetica trasformiamo ogni numero in un'immagine attraverso i suoni quindi dal momento che il numero uno ha come suono il suono dentale la nostra scheda potrebbe essere te il numero due è la scheda potrebbe essere nu no è il numero 13 i suoni sono e quindi potremmo avere timo dama cerco sempre di prendere immagini concrete non prenderei mai una parola come temo perché non ha un'immagine concreta è un verbo coniugato non mi piace perché dopo la nostra mente ragiona per associazioni di immagini quindi più è chiara e forte l'immagine più diventa semplice riuscire a memorizzare in questo modo andrai a costruire le tue 100 schede le schede devono essere funzionali per te qui troverai a disposizione un link per vedere uno schedario mentale che ti suggeriamo ma non devi per forza di cose attenerti a queste schede sappi che le puoi cambiare se al numero 25 trovi la scheda nilo e ti piace di più anello allora puoi utilizzare anello in caso non ti piacessero quelle che trovi sentiti libero di sostituirle tanto una volta che hai compreso il meccanismo starà te scegliere le immagini più funzionali 44 ad esempio c'è raro se non ti dovesse piacere l'immagine che abbiamo scelto puoi sostituirla con un'altra immagine come la doppia r di ron royce oppure qualcos'altro come orrore anche se anche questo è un pochino astratto mettendo un'immagine che magari di ti suscita orrore la cosa che è davvero importante sapere quando costruisci il tuo schedario e che non puoi permetterti di avere delle immagini simili quindi evita di mettere immagine come mare e riva mare sarebbe la nostra immagine 34 e riva sarebbe la nostra immagine 48 perché dopo avrai due immagini simili come punto di partenza e ti chiederai che cos'è che ho collegato a riva e che cos'è che ho collegato a mare rischierai di avere confusione i campionati di memoria mai uno potrebbe permettersi una cosa del genere vuol dire che è ancora un po' un dilettante per quanto riguarda altri sistemi puoi utilizzare solo nel caso la conoscessi già la smorfia napoletana qual è il limite della smorfia napoletana che la devi imparare attraverso la ripetizione una volta che però la conosce alla perfezione puoi considerare quella hai già delle immagini pronte che ne so 4 il maiale 5 la mano 77 le gambe delle donne io non la conosco sono andato a curiosare un attimo per capire se c'era un criterio particolare di abbinamento tra numero e immagine scelta ovviamente non essendoci un ragionamento così intuitivo dietro come potrebbe essere quando per tre prendessimo i tre moschettieri per quattro i quattro evangelisti e così via per ogni numero allora diventa un po più impegnativo farla entrare in testa nel caso in cui ce l'avessi già tieni quella andiamo a vedere un terzo sistema consiste nell'abbinare delle immagini a ogni singolo numero attraverso un ragionamento molto più intuitivo immediato non vuoi imparare la conversione fonetica non vuoi metterti lì a pensare 71 chiodo coda bene hai delle immagini per 71 che ti vengono in modo immediato e intuitivo allora se per ogni singolo numero tu hai delle immagini puoi utilizzare quelle vediamo alcuni esempi 10 potrebbe essere un attaccante uno un portiere a meno che tu non sia proprio abbastanza digiuno di calcio che dopo vedi soltanto due calciatori in questo caso dovresti vedere uno vestito in un determinato modo uno in un altro completamente in un altro contesto se no anche in questo caso rischiamo di fare confusione che è l'ultima cosa che vogliamo fare per 23 possiamo prendere il l'autobus che magari passa sotto casa nostra e quindi è un'immagine molto precisa 46 valentino rossi e così via se riesci ad avere appunto delle immagini per ogni singolo numero puoi evitare di apprendere la conversione fonetica se non volessi arrivare fino a 100 ma ti bastassero 20 ganci ci sono degli schedari molto più corti che puoi trovare creando delle associazioni di immagini molto semplici si basano sull'associazione tra numero e forma del numero ad esempio 1 potrebbe essere un bastone 2 un cigno per la forma che ha 3 una molla 4 potrebbe essere un naso 5 potrebbe essere una mano 6 una ciliegia 7 la falce per tagliare il grano 8 un pupazzo di neve 9 potrebbe essere un palloncino 10 potrebbe essere la forchetta e il piatto quali sono gli utilizzi dello schedario mentale quando dobbiamo ricordare un elenco di informazioni partiamo da un esempio molto semplice la lista della spesa devo ricordare 15 cose le vado a collegare in modo bizzarro strano paradossale ai miei punti di riferimento quindi se volessi comprare come prima cosa la pasta nel mio primo punto nel mio primo gancio andrò a collegare la pasta il collegamento dovrà essere sempre paradossale bizzarro strano per capire come fare i collegamenti ti suggerisco di andare a guardare il video sul paradosso azione vivido che è il collante per trattenere le informazioni e il collante tra le immagini che andremo a collegare tra di loro detto questo nel gancio numero uno nella scheda numero uno andremo a collegare la pasta se la seconda cosa che volessi comprare sono gli occhiali sto inventando al numero due in base a quella che è la scheda che abbiamo scelto andremo a mettere gli occhiali e così via per tutte quante le informazioni questa tecnica va bene quando ci troviamo magari nella quotidianità ci dicono cinque cose e le vogliamo memorizzare subito molto velocemente le andiamo a collegare i nostri ganci qual è il limite più grande di questa tecnica e che se ho sempre e solo questi ganci allora se domani volessi memorizzare altre informazioni non posso perché noterai che verranno fuori le informazioni memorizzate il giorno precedente quindi ci sono diversi modi per superare questo ostacolo questo limite il primo vado a memorizzare le informazioni su altri ganci oggi utilizzato le prime 15 schede domani inizio ad utilizzare dalla sedicesima in avanti oppure un'altra strategia è quella di avere più schedari mentali ma nel caso ti servissero più schedari mentali vuol dire che stai iniziando ad utilizzare le tecniche in modo assiduo e quindi ti suggerisco di entrare in profondità su queste tematiche e andare a vedere la tecnica dei percorsi tecnica dei loci ciceroniani che ti può essere di grande aiuto perché in questo modo creerà i percorsi molto più velocemente qualcuno addirittura dice no guarda è molto semplice puoi costruire un primo schedario e dopo li colori con i colori dell'arcobaleno quindi avrai per il primo schedario le immagini normali per il secondo avrai le immagini tutte rosse per il terzo immagina di dipingere quelle immagini in modo giallo con il colore giallo di sottofondo e l'arancione il verde il blu e così via in realtà immagina la confusione perché il colore non è un elemento così differenziante così distintivo la cosa che puoi fare invece è appunto utilizzare diversi percorsi ripercorriamo quindi punti chiave di questo video abbiamo detto che cos'è uno schedario mentale è un elenco di immagini abbinate ad ogni singolo numero alle quali andremo a collegare delle informazioni abbiamo diversi sistemi per creare queste immagini il primo è la conversione fonetica il secondo può essere avere le immagini della smorfia napoletana questo solo nel caso in cui le conoscessimo già il terzo è creare delle immagini in base a un metodo logico deduttivo che ci permette di abbinare facilmente un'immagine ad un numero come abbiamo visto 10 attaccante 46 valentino rossi e così via l'altro sistema che abbiamo visto è quello di creare delle immagini che rievochino il numero per la somiglianza la forma abbiamo visto 1 bastone 2 cigno 11 scala 10 forchette piatto e così via il limite di questo sistema è che non è facile trovare delle immagini per ogni numero diciamo da 20 in su quindi in questo caso ci fermiamo a 20 e dopo se avessimo bisogno più schede magari investiamo più tempo e creiamo uno schedario con la tecnica della conversione fonetica successivamente abbiamo visto anche come utilizzare lo schedario mentale quali sono i limiti dello schedario mentale e come superare questi limiti se il video lo hai trovato utile ti suggerisco di iscriverti al nostro canale e di condividerlo con persone che potrebbero tranne beneficio al prossimo video